Giovanni e Samuele, economia aziendale dell'acqua, seconda prova, com'è andata ragazzi? Molto bene, molto bene, direi proprio in serenità assoluta, se posso fare una citazione proprio con la sigaretta in bocca. Vi sentivate pronti? No, beh, economia molto meglio, anche il nostro indirizzo, con sconto italiano di ieri, magari, in realtà, ma sono sempre molto bello. Relativamente noi facendo finanze e marketing era relativamente la prova dove noi potevamo fare il nostro meglio e oggi è andata molto bene per me, poi non solo bene. Sì, sì, ma anche per la classe, penso, è andata molto bene. Ok, i professori durante l'anno vi avevano preparato bene? Sì, sì, la nostra prof è molto brava, ci ha preparato tutto il mese di maggio-aprile e poi sul bilancio della tua scelta. Abbiamo voluto fare comunque differenziato dall'altra classe, abbiamo messo, abbiamo fatto verso fine anno comunque questi argomenti per la bianca fresca, per la bianca fresca, per l'esame. Bene, adesso vi attendo l'orale. Io il 28, io il 30, andiamo più tranquilli. Ok, un ripasso generale in questi giorni? Sì, un ripasso generale, vediamo come vanno gli iscritti, però daremo il massimo. Perfetto, grazie ragazzi e bocca al lupo.